ciao a tutti ragazzi e benvenuti al mio nuovissimo video oggi sono un tipo di video oggi sono oggi sono c'è prima mattina e non ci sto un poco a destra e vedete tutto il mio attore è disordinato ma a me mi piace così a non ci è piaciuto ho visto che voi mi vede tanto bene e me ne voglio fuori